Nel senso... Sai com'è detto? Per ora... Sei bravissimo! Però sei bravissimo! Hai studiato un casino però! Mi dispiace che hai dovuto lavorare, io sempre ho chiesto a studiare. No, ascolta, allora, quando noi... Sicuramente ogni opera parla ai suoi contemporanei, anche quando non vuole, anche quando io mi metto in testa di fare paro paro una tragedia classica come lo facevano i classici quindi con tutti i fermi che parlano a pubblico e per tutta la sua durata quindi sei ore di... diciamolo pure, rottura di coglioni. Beh, in questo caso comunque tu, regista che fai sta roba, mi stai raccontando qualcosa. Mi stai raccontando che probabilmente hai un'angoscia dentro e che devi far soffrire gli altri per sentirti meglio tu. Sempre, no? E' chiaro che chi fa la commedia, come me, io ho... a volte mi capita di fare anche testi seri, però non mi piace. A me piace fare la commedia. e chi fa la commedia ovviamente deve lavorare sul contemporaneo. Io non posso fare ridere o comunque divertire o comunque raccontare un momento gioioso ai contemporanei se non parlo una lingua che loro capiscono e se non gli dico delle cose che loro in qualche modo possono percepire. Ora, però, se noi parliamo di guerra sappiamo tutti cos'è cioè, sappiamo tutti cos'è la guerra anche chi non l'ha fatta anche chi non ha combattuto nel Cinquecento conosce magari un'altra guerra magari altre cose magari delle immagini scusami, sto mangiando il maione perché ho fame. Ebbè, bisogna pure anche veramente non si può sputare il video No, poi di là verso la finestra E quindi per forza devi parlare ai tuoi contemporanei lo devi fare come tecnica però al di là di questo a me piacciono quelle cose che in qualche modo posso vivere il teatro peraltro è l'unica forma d'arte che prevede contemporaneità di viventi io posso fare il pittore famoso anche da morto ma non posso fare attore di teatro da morto non sono più un attore quando sono morto in teatro e invece sono ancora un attore di cinema e quando noi riprendiamo il teatro poi lo facciamo vedere e abbiamo questi archivi video del teatro quello già è diventato una cosa non è più teatro è diventato una cosa morta cioè quelle cose che possono funzionare che magari io vedo un film di Totò mi diverto mi fa ridere Totò mi fa ridere ma non può essere teatro quella cosa lì perché non siamo io e lui contemporaneamente nel luogo quindi non respiriamo la stessa aria e non percepiamo la stessa identica cosa in quel momento e allora ecco perché il teatro non può che essere contemporaneo a me mi fa ridere oggi c'è una definizione di teatro che si chiama teatro contemporaneo un tipo di teatro diciamo che nasce poi credo negli anni 90-2000 forse più tardi non so e comunque ha degli stilemi ha delle proposte ma cioè che senso ha il teatro è tutto contemporaneo sempre e se sei vecchio e fai teatro vecchio fai un teatro vecchio ma contemporaneo allora Ruzzante ha degli universali come anche Aristofane Aristofane come fai a tradurre Aristofane io non credo che tu possa prendere Aristofane e dire se quello era lo schiavo che rubava il cibo allora io faccio la donna delle pulizie che si ruba il bracciale no no per me non è così che si traduppano le cose una volta ho visto una rappresentazione del ventaglio di Goldoni e invece il ventaglio c'era un cazzo di il maffarino con l'elica sai quegli ventilatori con l'elica cioè secondo te quella è la modernizzazione del ventaglio siamo sicuri? attenzione perché secondo me forse il cellulare forse un'altra cosa o una borsetta quello che rappresentava il ventaglio all'epoca nel 1700 era un modo per comunicare ed era un modo per atteggiarsi delle ragazze eccetera e quindi cos'è? un oggetto erotico è quell'affarino lì c'è c'erano i camionisti vabbè forse nelle serate di prostituzione questi affarini possono in qualche modo non possiamo modernizzare in questo modo è un affronto all'intelligenza che facciamo io credo che gli universali siano molto più potenti di quanto noi crediamo allora il sottotitolo però ti dice tutto e cioè ruzzante noi raccontiamo amori disperati cioè questo dovrebbe essere nada a fare la sigla di questa cosa sono gli amori disperati ma in tempo di guerra e allora è chiaro che io non rappresento una società contemporanea anche se voglio parlare contemporanei la donna che vediamo che è la bravissima Marta Cortellazzo-Viel che fa Nua che però è un personaggio che riassume molti personaggi femminili riassume anche l'abetia ne riassume diversi ecco non è solo una donna contesa cioè non ci sono solo due uomini uno se lo vuol portare a casa l'altro se lo vuol portare a casa e lei a seconda decide ma è anche una donna combattuta tra l'amore che esiste che esisteva anche in tempi di schiavitù sessuale cioè la femmina nel Cinquecento vive in tempi di schiavitù sessuale se non è nobile è chiaro che per i nobili fanno sempre quello che vogliono però una contadina ma poi verrà raccontato nello spettacolo ma cosa può fare? cosa può fare? non può vivere da sola deve cercare una protezione esce dalla protezione del padre e deve trovare la protezione di un uomo ma lei è combattuta anche tra questo diciamo canone che gli impone la società in cui vive e l'amore che lei sente perché comunque è una donna comunque è un essere umano e in tutte le epoche gli esseri umani hanno amato e quindi lei si innamora e di nuovo ti domanda ma si innamora perché? si innamora perché ha bisogno di e l'indipo è sempre quello e lei e poi combattuta fra se stessa perché a un certo punto si imporrà di non essere diciamo l'amore il sesso è sempre bambino cioè quando tu sei innamorato quando c'è il sesso si è bambini e lei a un certo punto deve ammettere di diventare una donna e allora certo che c'è il sesso certo che c'è quello che noi chiamiamo amore ma non c'è più la gioia non è gioioso cioè la felicità diventa un'altra cosa filtrata attraverso dei meccanismi intellettuali e allora noi abbiamo differenziato le cose perché anche Rusante racconta di luoghi diversi a seconda quindi noi abbiamo il pavano abbiamo le campagne del pavano all'inizio nell'amore bambino e quando tutti sono bambini noi abbiamo questi tre personaggi abbiamo Rusante Menato e Nua Menato lo fa Andrea Collavino questi tre personaggi sono tre bambini sono tre bambini innamorati e amanti sono stati tutti amanti di tutti sono poi le donne scappano una è scappata con un pastore slavo c'è la Nua che si ricorda dell'amore come è nato però vuole Rusante perché c'è questo eros potente e quindi nudi nei bagliai il pelo adesso non c'è più non esiste più il pelo invece una volta non capisco perché adesso chiedo l'unico uomo che c'è qua presente ma tu veramente cioè le ascelle perché una ascelle deve depilare me lo chiedo anche gli uomini si raffinano ma lasciamo stare questo aspetto le donne vogliono sempre qualcuno che gli somigli questo è chiaro però ecco perché si va d'estate tutti nudi come vermi con l'olio tutti depilati questa è la verità no questo è perché ci vergogniamo di essere animali invece ecco l'amore è animale l'amore è animale e poi c'è questo secondo frangente c'è del frangente in cui arriva la guerra arriva la guerra e allora noi vediamo tutti i conflitti per cui loro che scoprono di non essere bambini quel campo che lavorano non è loro è di un vescovo e poi ci sono gli zingari gli zingari rubano i bambini bisogna stare attenti e loro non hanno bambini però bisogna stare attenti lo stesso capisci e poi ci sono tutti i tipi di contrasti gli ebrei cioè l'incontro con l'altro che diventa conflitto e c'è il momento della guerra e dopo c'è questo momento questo momento di Venezia che io ho rappresentato con il ritorno il Parlamento del Ruggente che torna da campo ovviamente tutto rivisto e riscritto però è a Venezia e Venezia è la città già nel 500 anche se non è chiaramente la città nel 700 ma è una città di mercati infatti a Venezia nel 400 quando nasce Venezia chi si rifugia mille anni prima chi va a rifugiarsi nel veneziano sono i mercanti del Friuli di Padova i padovani sono quelli che hanno fondato Rialto l'isola di Rivo Alto e diventa è subito Venezia è subito città di mercanti ed è un'altra cosa perché il contadino non è il mercante è un'altra mentalità ha comunque delle mentalità molto rigide anche il contadino ha la famiglia però ha paura degli dèi ha paura come dice Asterix che il cielo gli caschi sulla testa e invece il cittadino ha altre cose e noi vediamo queste persone cambiate e vedremo questo ambiente che si sarà diradato e vedremo questi fantasmi Ruzzante non sa neanche se è vivo così dice anche che è un Ruzzante originale del Parlamento quando torna da campo che dice se fosse un sogno allora la sogna beh no no ho preso la vacca poi se è un sogno beh invece sono morto sono morto sono uno spirito ma i spiriti non hanno fame io fame insomma lui cerca di aggrapparsi alla concretezza e forse l'unico che è rimasto è infatti è rimasto indietro è rimasto bambino e quindi lui ha ancora questa attrazione forte per la Nua e però scopre che tutto è cambiato cioè anche Menato è andato a Venezia sono nella città hanno quasi un altro modo di parlare quasi un modo sostoso come direbbe Ruzzante però